200 piante di marijuana alte fino a due metri e mezzo, una vera e propria piantagione, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia all'interno del Parco del Ticino, una zona impervia e raggiungibile soltanto dal fiume con un'imbarcazione. I finanzieri che sono arrivati sul posto con il supporto dei mezzi dei vigili del fuoco hanno trovato le piante interrate in diverse aree e disposte in una serie di filari organizzati e attrezzati di irrigatori alimentati da pannelli solari portatili. In tutto è stato sequestrato circa un quintale di stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro. La piantagione è stata scoperta grazie alle ricognizioni aeree svolte dai finanzieri con la collaborazione della sezione aerea di Varese. Nonostante fossero di dimensioni ragguardevoli, annotano gli inquirenti, le piante di canapa indiana erano perfettamente nascoste all'interno del parco, in quanto poste in una zona particolarmente priva di sentieri e ricoperta di fitta vegetazione. Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per cercare chi gestiva concretamente la piantagione di marijuana.